questa è la storia di un incontro improbabile che comincia con uno scontro un sabato mattina in metropolitana in mezzo a tanta gente è lo scontro tra due mondi opposti quello di lei e quello di lui che sembrano destinati a non sfiorarsi mai più come due linee sì che si che si sono intersecate in un punto per un attimo e sono destinati a procedere ognuna per la sua strada a tutta velocità allontanandosi sempre più in fretta ma il destino a volte gioca a brutti scherzi o sarebbe meglio dire scherzi intriganti e affascinanti ma ascoltiamo la voce della protagonista mentre penso alla nuova foto da caricare sul mio profilo instagram mi alzo a malincuore mi trascino davanti allo specchio quello che vedo non mi piace occhiaie pallore sguardo stravolto ho una faccia davvero da jet lag eppure sono tornata già da due giorni lo stress esami da preparare modifica il piano di studi bla 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 che innoia un fischiettio che mi cerca su whatsapp così presto anna sicuramente e infatti è lei ciao bella ci becchiamo più tardi baccheri rispondo al volo le dita che corrono sui tasti ok ma facciamo da scrittorium va bene alle 10 e 30 ok ok mentre mi vesto con calma sento adele che passa l'aspirapolvere anche di sabato temerare alla nostra governante e dopo mezzo minuto infatti la voce di mio fratello sovrastando le pareti di parecchi decibel la voce di qualsiasi quindicenne fende l'aria e arriva ai miei timi adele voglio dormire basta segue come sempre il rumore della porta della sua camera che sbatte violentemente ma anche io ero così terribile a 15 anni ma non mi sembra o forse ricordo male non lo so e poi poi c'era ancora la mamma e a quei tempi e la mamma respingo con fermezza il ricordo del suo viso perché fa ancora troppo male pensare a lei è passato solo un anno mentre facciamo colazione osservo mio fratello tommaso 15 anni un ciuffo ribelle indomabile lo sguardo da bambino e i brufoli di una tempesta ormonale che si sta scatenando da mesi si è fatto più alto più magro le mani più grandi anche la voce sta cambiando e poi non si lascia più coccolare come prima tommy poi non mi hai detto come ha dato la verifica di matematica tommy mi risponde con un borbottio tommy che significa non puoi rispondermi avversi dai com'è andata l'ho aiutato tanto per questa verifica spero in un buon voto la prof ce l'ha con me sentenzia laconico implacabile quindi hai preso quattro ma tommy sospiro rassegnata no no preso sette però con gli stessi errori a mattia ha dato otto e a me sette quindi è una stronza proferisce con la sicurezza di chi sostiene un sillogismo inattaccabile ma dai saranno stati errori diversi comunque guarda che sette ha un bellissimo voto no rispondo sollevata sì però resta il fatto che la prof ce l'ha con me a proposito grazie per l'aiuto bofonchi a lui senza guardarmi in faccia odia ringraziarmi credo ma io l'aiuto volentieri è mio fratello dai vieni qui ti meriti un abbraccio allargo le braccia pronta ad accoglierlo e gli scompiglio il frutto il ciuffo e lui se lo tocca subito per metterla a posto e poi arrossisce sto ancora sorridendo quando entra papà in cucina ed è come se una folata di vento artico gelasse tutto vorrei raccontargli del mio prossimo esame vorrei vederlo sorridere una volta tanto invece lo lascio solo con il suo caffè solo distante assente e non gli dico nemmeno che mangio fuori in pochi minuti mi trucco avverto adele tommy si è chiuso in camera sua sento la musica palla lo chiamerò più tardi che disastro di famiglia penso mentre esco o meglio fuggo da casa non vedo l'ora di incontrare anna almeno mi distrarà un po' argomento di conversazione lo stesso da due settimane la festa di andrea il suo ragazzo si laurea tra pochi giorni e le vuole regalargli una festa indimenticabile tre giorni fa mi ha accennato a un nuovo locale in centro un posto dove si edipiscono dei rapper e a lei piacerebbe ingaggiarne uno per la festa a me non sembra una grande idea ma forse mi sbaglio del resto andrea è ricco da far paura ma si atteggia sempre a ribelle probabilmente apprezzerebbe una serata un po come dire diversa una delle ultime serate di ribellione prima di andare a lavorare con il papi nell'azienda di famiglia naturalmente scendo veloce le scale che portano all'entrata della metro quando sento il fischiettio del cellulare è tommy sister dove sei a pranzo mi devo arrangiare con adele digito in fretta ancora sulle scale brunch con anna si ci vediamo più tardi bacio bacio e mi metto a correre solo un minuto di attesa per la mia direzione più tardi quando scrive mio fratello e inizia a pensare a una risposta ma ma arriva il mio treno salgo con calma ci manca solo che mi cada il cellulare sarebbe sarebbe il terzo in sei mesi trovo subito posto mi siedo il sabato non ci sono i pendolari per fortuna quindi niente calca digito in fretta ti chiamo io mangia la verdura se no i brufoli ti devasteranno e sorrido pensando ad adele alle sue insalate anti brufoli mentre mi alzo perché sono arrivata alla mia fermata scendo e mi avvio decisa all'uscita e sento di nuovo vibrare il cellulare sarà anna in ritardo come al solito no è ancora tommy ma il messaggio non si apre il cellulare non prende bene qui sotto tento di leggere quello che mio fratello mi ha scritto in mezzo alle persone che mi passano accanto quando vengo travolta e dico travolta un ragazzo mi piomba addosso mi cade il cellulare subito dopo anche la borsa ehi ma riesco solo a dire mentre mi riprendo oh ma ci sei il tono è arrabbiato e l'accento marcatamente milanese scusa davvero non ti ho visto ma non guardi dove vai sempre con questo cavolo di cellulare in mano la voce roca bassa beh però anche tu andavi in senso contrario lo sai almeno rispondo stizzita sì ma è comunque colpa tua ora spostati che raccolgo i miei fogli si china per prenderli per terra ti aiuto rispondo si tratta di disegni tanti disegni che si stanno anche sporcando ne raccolgo uno mi dispiacerebbe che si rovinassero discatto il ragazzo mi afferra il polso lo stringe forte poi con l'altra mano mi sfila il foglio senza dire una parola lo guardo interdetta oh volevo solo aiutarti eh lascia andare il mio polso lentamente ti sembro uno che ha bisogno d'aiuto ora lo guardo è strafottente e non mi piace affatto no no mi sembri uno che ha bisogno di un corso di buone maniere ecco e me lo faresti tu mi sono tanto educata ma mordo anche il sabato mattina eh lo guardo e scuoto la testa poi mi rialzo faccio per andarmelo appena fatto un metro quando sento la sua mano che mi stringe il polso di nuovo e mi costringe a girarmi e me lo trovo davanti è più alto di me molto più alto ed è troppo vicino e il suo silenzio mi innervosisce lo fisso in viso ancora quello sguardo strafottente a un mezzo sorriso che mi fa salire la rabbia ma che ti ridi ma cosa vuoi eh ehi hai dimenticato il tuo giochino principessa dice e poi mi porge il cellulare senza smettere di fissarmi agli occhi più scuri che io abbia mai visto scuri ma ma brillanti come se avessero una luce dentro grazie mormoro un po imbarazzata poi mi giro e me ne vado infilo la prima scala mobile e riprendo a respirare regolarmente e quando arrivo in cima io mi volto e lo vedo ancora lì mi sta fissando immobile con quel sorrisino da schiaffi